Un girone di andata in cui ci sono stati dei miglioramenti, ci sono state delle partite ottime e delle partite da dimenticare, diciamo così, e dobbiamo trovare continuità. Ultimamente siamo riusciti a trovare una continuità di gioco, di qualità del gioco, e sarebbe meglio adesso riuscire a trovare anche una continuità di risultati. La partita di domenica ci dà l'occasione di poter raggiungere questo obiettivo, venendo da tre partite dove ci sono state due vittorie e una sconfitta in trasferta a Casal Posterlingo di una ristretta misura, che è comunque sintomi di una buona continuità di qualità di gioco, quindi la trasferta di domenica è una bella occasione per provare a dare una continuità. Non è facile, perché è una trasferta lunga, un campo difficile, quello di Biella, e loro hanno perso l'ultima, quindi saranno agguerriti, ma non si guarda in faccia nessuno.